9 e 40 minuti che scattano in questo momento abbiamo i nostri ospiti non li hai voluti svelare prima? no esatto perché era una sorpresa io li ho attesi per un sacco di giorni perché è un po' di giorni che ci siamo messi d'accordo per la loro presenza a tempo reale anche perché questa sera ci sarà un appuntamento importante per il loro gruppo e adesso diamo il buongiorno ai nostri ospiti speriamo che i pennacchi non li coprano sei un po' invidiosa io sono molto invidiosa domani puoi venire in onda con quel caschetto sai che ci vuole un sacco di tempo a vestirsi poi dopo ce lo facciamo raccontare salutiamo intanto Marco Baiocchi e Dennis Pasini che sono i fondatori di un gruppo per rimini molto importante che è la Leggio Gemina XIII buongiorno Marco e buongiorno Dennis benvenuti buongiorno intanto grazie per aver preso un po' di tempo dal vostro lavoro insomma per raccontarci questa passione perché siamo qui intanto li vedete ci sono degli strumenti sopra il nostro tavolo che poi ci faremo raccontare ci faremo anche dire come si chiamano il loro è un gruppo storico cioè o meglio loro cercano di non devi spiegare tutto tu no sì però io vorrei raccontare perché molte volte si pensa a questi gruppi insomma che sono vestiti in un modo che sono quelli che fanno folklore in realtà il loro lavoro è soprattutto filologico intanto proviamo a raccontare non so Dennis o Marco come è nata l'idea di questo gruppo quanto tempo fa che cosa vi ha fatto una domanda e dire proviamo a fare questa cosa allora io e Marco sono molti anni che ci conosciamo che facciamo rievocazione storica abbiamo cominciato circa intorno all'anno 2000 e poi diciamo così che nel 2010 fino al 2010 in una notte fredda tempestosa è nata questa idea di fondare un'associazione che rievocazione la storia dell'antica Roma e quindi brevemente ci siamo un attimino organizzati ci siamo visti un po' di volte a inizio 2011 è partita poi questa avventura che sta andando avanti in maniera molto positiva Marco ricordiamo che cos'è le Giogemina XIII cioè c'è un legame forte anche con il nostro territorio forse non tutti però hanno così sotto mano i libri di storia antica quindi forse è bene ricordarlo lo ricordiamo perché Rimini ha assistito al passaggio di Giulio Cesare e lui stesso scrive nel De Bello Civile che attraversa il Rubicone e arringa una legione nel foro di Rimini la legione era la XIII che l'aveva raggiunto dalle Gallie ed era stata la prima ad arrivare quindi noi essendo riminesi non potevamo che scegliere la XIII qua ci siete voi due ma quanti siete? attualmente siamo una trentina di soci ognuno ha il suo ruolo chi fa il legionario chi fa il portatore dell'Aquila abbiamo inaugurato da un annetto poco più la sezione di civili quindi diversi arti, mestieri che sta andando molto bene i ragazzi sono bravissimi quindi ognuno ha le sue specialità circa una trentina di soci attualmente legati da che cosa Marco? cioè che cosa è che vi lega? perché dicevamo non è un gruppo che fa folklore perché voi siete molto attenti in realtà a recuperare le fonti storiche e a far sì che anche la vostra esperienza o comunque quello che raccontate alle persone durante le rievocazioni sia davvero quello che vivevano i romani legionari o i civili al tempo di Giulio Cesare sì diciamo che il lavoro e la ricerca in background è molto importante quindi anche ricostruire gli equipaggiamenti non sono ricostruiti a livello cinematografico ma sono ricostruiti a livello archeologico cioè partendo dai reperti archeologici che ci sono nei musei e col supporto anche di diversi archeologi e studiosi quindi abbiamo molte collaborazioni aperte che ci permettono appunto di ricreare questi oggetti il più fedelmente possibile poi chiaramente non è mai al 100% ma quindi ci lavorate voi su questi oggetti li ricreate in prima ci vuole molto tempo anche sì diciamo che si riscoprono si riscopre un artigianato perso cioè rifare delle spade o delle armature come le facevano in passato è molto difficile e si riscoprono le tecniche praticamente quindi diciamo che un buon 70% degli equipaggiamenti lo rifacciamo noi tra l'altro insomma equipaggiamenti pesantissimi Danny se non sbaglio voi quest'estate avete fatto una cosa un caldo allucinante una marcia lunghissima che cosa vi siete provati? sì diciamo è stata veramente una bella esperienza in collaborazione con la dottoressa Cristina Lavara Montebelli abbiamo voluto riaffrontare quello che poteva essere una marcia di un legionario in assetto completo quindi con tutto l'equipaggiamento addosso che era l'armatura scudo, armi lo zaino del legionario la Sarcini, il famoso fardello che era una croce di legno con delle cose il proprio equipaggiamento diciamo appoggiato sopra e abbiamo ripercorso un attimino almeno in parte quella che era una vecchia via romana la via Emilia quindi da Cesena abbiamo raggiunto Rimini con diverse tappe l'associazione era divisa in due parti indicativamente quindi c'era una parte che si preoccupava di marciare fisicamente l'altra parte che si preoccupava di allestirgli l'accampamento diciamo che i legionari l'avevano un po' più difficile la vita perché poi l'accampamento c'era anche un'ambulanza poco distante perché col caldo forse vabbè quelli sono supporti della modernità che non sono contemplati un carrettino dietro non so un genere di prima necessità no è stata tosta però è stata una bella esperienza seppure edulcorata diciamo così rispetto a quello che loro facevano perché in linea di massima abbiamo fatto sui 12-13 km al giorno loro ne facevano 20-25 però anche a marciare sull'asfalto con i chiodi diciamo così ecco ma quanto fece un'armatura cioè quanto un legionario si doveva portare addosso quando marciava diciamo che in assetto completo siamo sui 40-45 kg 45 kg ti vedrei Andrea come legionario una volta poi basta e poi stramazzi però diciamo perché chi ci sta ascoltando diceva vabbè ma portarsi dietro 45 kg non è ma non tutti devono fare i legionari in realtà insomma come ci spiegavano i nostri amici c'è chi può fare altro può anche allestire l'accampamento preparare immagino insomma le vettovaglie vi portano il curriculum voi valutate dite se puoi farlo tu no se sei abbastanza fisicamente preparato ci avete portato degli oggetti ce li raccontate brevemente chiaramente questo è solo a favore di chi ci sta seguendo in tv ma poi metteremo anche il video sulle nostre pagine esatto raccontateci un po' cosa ci avete portato beh io inizierei dalla marcia nel senso dalle calighe queste sono le scalpe con i tacchetti esatto con quello si gioca a calcio il concetto è identico i romani avevano le famose calighe che sotto erano corredate di chiodi che servivano ad aumentare il grip sul terreno durante le battaglie o durante le marce per non scivolare per non scivolare insomma il terreno è veramente sembra una cosa un'inezia in realtà era un grosso vantaggio soprattutto durante le battaglie perché erano si davano delle gran spinte venivano ad impattare quindi avere un grip sul terreno ti manteneva saldo al terreno non cedere non cedere campo e poi sopra tra l'altro anche esteticamente è molto bello ma stanno andando di moda io guardo la parte estetica insomma tra l'altro insomma piace anche legato le cabiglie ma anche i romani i romani poi erano dal punto di vista estetico insomma siamo un po' loro figlia anche addirittura i chiodi sotto si facevano fare le forme particolari soprattutto in ambito civile di modo che la tua impronta lasciasse un calco unico quindi eri unico nel tuo genere è insomma un po' un modello uno stile bene ti vedo bella carica mi piacciono queste cose le scarpe promosse le scarpe esatto poi che cosa ci fate vedere? beh diciamo che parliamo della Andrea pesa un sacco dopo me la lasciate che devo dire due cose a Simona diciamo che i romani gli piaceva molto anche apparire sfarzosi una cosina sobria e questa è la riproduzione di un gladio romano un gladio romano bello ed era l'arma principale di combattimento di un legionario romano quella più diciamo più conosciuta questo è diciamo era un modello anche abbastanza di pregio perché aveva tutte placche che decorate e anche questo ha fatto tutto a mano da un artigiano bellissimo è veramente insomma è un pezzo d'arte però si può davvero dire poi abbiamo il bastone perché insomma questo ha una funzione molto particolare infatti mi chiedevo perché ci servono i bastoni questo è il famoso bastone del comando da cui derivano alcune forze armate ce l'hanno ancora il famoso frustino questo è il vitis del centurione e questo serviva non per combattere ma per dare le punizioni ai lesionari ah vero punizioni corporali esatto e quindi questo veniva dato sulla schiena dei lesionari che non eseguivano gli ordini o che vale anche per voi quando fate le ordini no chiedevano noi in realtà siamo i centurioni che erano l'ufficiale più alto in grado che combatteva ecco in linea con i lesionari infatti Giulio Cesare quindi il centurione è il capo diciamo non so per chi non la piramide di comando esatto era a metà della piramide di comando però era il grado più alto che combatteva insieme ai suoi lesionari per dare l'esempio gli altri guardavano gli altri si guardavano quelli più alti stavano dietro a guardare adesso abbiamo la tv quella volta si guardava un attimo cosa succedeva davanti poi abbiamo questa cosa meravigliosa questa è appunto la cresta del centurione che a differenza di tutti gli altri gradi che ce l'avevano nel senso in questo senso longitudinale lui ce l'ha in questo senso qua si chiama cresta crista trasversa perché essendo in prima linea i legionari lo riuscivano a vedere e avevano il punto di riferimento del loro ufficiale sappiamo dov'era vedete ma questa è bella e anche questo casco un casco sì ci vedo in moto che è arrivato con quello omologato è omologatissimo mi sembra che pesi pure abbastanza sì qualche chiletto lo pesa sulla cervicale aveva un ottimo stai a guardare il capello c'è qualcos'altro che è simpaticissimo no no qui c'è l'altra caliga aggiungo solo una cosa magari sulle calighe abbiamo voluto portarle perché in realtà queste hanno calcato dei territori importanti nel senso che a inizio settembre siamo stati su in Inghilterra siete andati al Vallo di Adriano è vero? sì l'abbiamo voluto portare perché hanno calcato i sentieri che hanno calcato i nostri legionari quelli veri ecco infatti perché è una passione tra l'altro che a Rimini sta crescendo vorrei ricordare anche che il nostro spot che è andato in giro per i cinema aveva loro protagonisti insomma ci siamo fatti aiutare perché ci piaceva questo legame con Rimini e con la nostra storia perché sta nascendo e sta crescendo a Rimini questa passione ma poi che vi vede anche in giro per l'Italia per l'Europa perché sono tanti poi anche che amano hanno la stessa passione in realtà in Europa è molti anni che la rivocazione storica è utilizzata per valorizzare i monumenti e le aree archeologiche è un nuovo modo di veicolare la storia e noi appunto a settembre siamo andati lì perché ci ha invitato l'English Heritage che ha deciso di valorizzare il Vallo di Adriano riportandolo in vita e quindi riportando i legionari e anche i barbari a ricreare quella che era la vita dell'IMES e in quei posti noi abbiamo visto veramente come vivevano e in che situazioni vivevano perché là è rimasto molto naturalistico anche l'ambiente certo quindi non c'è civiltà c'è questo muro che segue le montagne le valli e tutto il resto con ancora il perimetro dove erano le stazioni di posta e i fortini dove vivevano i legionari c'è un collegamento tra queste varie associazioni a livello internazionale quindi voi le altre sì c'è un consorzio europeo e a livello nazionale ci sono delle varie associazioni che poi noi ci conosciamo fra di noi e quando facciamo gli eventi tendiamo a chiamarci a vicenda siamo andati anche a Nîmes in Francia è il quarto anno che andiamo in Francia nell'arena di Nîmes che è l'arena romana meglio conservata al mondo quella dove hanno girato i gladiatore per intenderci e lì lo spettacolo è veramente immenso perché si riproduce quello che era uno spettacolo come facevano i romani perché anche loro facevano rievocazione per esempio nell'epoca imperiale rievocavano le battaglie fatte contro Cartagine contro Cartaginesi quello che abbiamo fatto anche noi contro un elefante vero fra l'altro c'era anche Annibale con l'elefante che è passato dalle Alpi sai perché lui era stato uno che ce l'aveva visto lungo da dove doveva passare ma voi nella vita poi che cosa fate voi che fate i legionari tutto il giorno cioè una passione un hobby carta di identità mestiere legionario no perché è interessante questo perché unito una passione tra l'altro anche molto molto affascinante poi è una vita assolutamente normale Marco Deni se voi insomma nella vita lavoriamo assieme fra l'altro facciamo rappresentanti quindi non c'entra assolutamente nulla con il legionario non c'entra centurioni adesso mi chiedo una cosa ma le donne le volete anche le donne perché insomma legionari donne non penso ci fossero c'è proprio una questione storica però forse magari in qualche altra veste sì sì in diversi ruoli civili diciamo abbiamo le ragazze che fanno un gran lavoro poi noi essendo associazione quindi non legionari veri abbiamo fra virgolette già subito dall'inizio aperto una branca diciamo così come ausiliari per le ragazze che volevano provare tutto quello che è il discorso dell'arceria quindi diciamo così abbiamo una corte saggitaria come venivano chiamate in cui le ragazze che hanno piacere di fare tiro con l'arco possono logicamente come legionari no però come ausiliari saggitari sì bravi mi piace questa sera c'è un appuntamento importante che vogliamo insomma lanciare c'è un open day per avvicinare anche altri all'associazione sì diciamo che è una cosa che abbiamo già iniziato l'anno scorso noi abbiamo sempre piacere di avere fra la nostra fila sempre più gente appassionata di storia perché fondamentalmente alla fine devo dire che è molto meglio del manuale di storia romana che ho studiato all'università questo modo di fare storia e quindi stasera alle nove perché ci vuole venire a conoscere più di vicino siamo disponibili allestiremo una sorta di piccolo accampamento all'interno della palestra dove siete in abito dove sarete a Viserba giusto alla palestra Rinaldi Casadei in via Mori 10 quindi c'è questo appuntamento io vi chiedo un'ultima cosa durante l'anno poi che cosa si fa cioè vi vedete che cosa fate cioè quali sono le attività principali anche per chi ci sta seguendo e magari è rimasto affascinato da quello che ci avete raccontato sì diciamo che allora noi siamo un pochettino una sensazione un po' anomala da questo punto di vista nel senso che siamo molto locali locali sul territorio radicalizzati sul territorio diciamo così per cui ci vediamo tutte le settimane quindi c'è un appuntamento settimanale esatto in palestra si allena a fare i legionari no cioè ci fate anche allenamento sì è fondamentale quindi già per te non andrei capito cioè potremmo anche metterci in forma adesso esagerata mentre i civili si vedono diciamo nei loro ambiti una volta al mese almeno si vedono insieme a noi per cui stabiliamo quelle che sono tutte base a calendario delle date tutti gli eventi da portare avanti gli studi da fare cose costruire e mettere a posto quindi una volta alla settimana ci vediamo in palestra